Amici di Unibet, parliamo di basket e in particolare della terza giornata del campionato di Serie A che scatta nel weekend. Cominciamo dalle due squadre imbattute. La prima è l'A7 Milano che affronta un derby sempre interessante e molto caldo contro Varese, ma un derby che negli ultimi anni è stato a pannaggio quasi sempre dell'Olimpia, troppo più forte di Varese e lo è anche quest'anno. Per quanto Varese farà secondo me un campionato positivo, Milano ha dimostrato anche contro il Maccabi di essere una squadra di buona caratura internazionale e non penso avrà difficoltà a superare Varese nel derby in programma domenica e sera. L'altra imbattuta, Venezia affronta Trento che è reduce dalla prima vittoria della sua stagione. L'Umana però anche in questo caso penso manterrà la sua imbattibilità perché è una squadra che ha confermato buona parte del nucleo dell'anno scorso e in più ha aggiunto alcuni elementi molto interessanti. Penso che Venezia batterà Trento e si porterà a 3 vittorie e nessuna sconfitta. Le due squadre che invece sono ancora secco di successi sono Cantù e Capodorlando. La squadra di coach Curtinaitis a mezzogiorno affronta Pesaro in un match veramente importantissimo perché sa già quasi la ultima spiaggia per Cantù che vuole fare un campionato da protagonista ma per farlo deve battere Pesaro e penso che potrà ottenere questa volta al Paladesio la prima vittoria della sua stagione anche perché è arrivato il nuovo playmaker Dominic Waters a sostituire l'infortunato Daudel con la squadra quasi al completo. Penso che Cantù possa ottenere la prima vittoria della sua stagione. Più difficile invece per Capodorlando che in casa affronta una Torino più forte rispetto all'anno scorso con un DJ White in grandissima forma anche se Capodorlando ha vinto recentemente tutti e quattro i precedenti con Torino e ha recuperato alcuni dei giocatori che erano infortunati. Penso che la Fiat riuscirà a espugnare il campo di Capodorlando e che la Betland resterà a quota 0 punti dopo le prime tre giornate. Direi che è tutto amici di Univet e buon divertimento con il grande basket.